È stata una partita di allenamento, è un onore giocare con una squadra di Serie A che sta facendo anche grandi cose, quindi è più bello per i ragazzi, sicuramente è stata una giornata bella per i ragazzi, però siamo proiettati già domenica e incontriamo una squadra importante per questo campionato che aveva fatto una squadra per cercare di primeggiare, quindi è stata già una partita molto difficile e speriamo di arrivarci con massima concentrazione e con la condizione fisica migliore delle ultime domeniche. Siamo in un girone difficilissimo dove ci sono 5-6 squadre che lotteranno per vincere, però cercheremo di stare lì davanti. Abbiamo cambiato tantissimo, volutamente, ma non perché i vecchi non l'hanno fatto bene, volevamo mettere un'area nuova e abbiamo cercato di fare una squadra con certe caratteristiche, Napolani è un giocatore che si addice al modo di pensare nostro e speriamo che ci dia una grossa mano, ma come lui, come altri giocatori che abbiamo nella Rosa.